Le persone che scappano da una guerra è quello come abbiamo sempre detto, io penso averlo detto in mille salse, vanno aiutate e non dovrebbero neanche arrivare qua con un barcone perché vanno aiutate in altro modo, perché sono quelli che spesso proprio muoiono, perché in quei barconi finiscono le stive sotto, perché non hanno i soldi per stare sopra però un'immigrazione incontrollata, di numeri incontrollati di persone che finiscono poi ovviamente nelle mani della criminalità organizzata perché devono mangiare, arrivano qua e non hanno nessun tipo di sussidio perché non possiamo pensare di accogliere tutti i clandestini, persone che scappano comunque sono migranti economici, non scappano da guerre in Italia, finiscono in mano della criminalità, trasformano le nostre periferie, le nostre città in posti invivibili e questo crea il problema poi di un'intolleranza sempre maggiore che porta a mostruosità come queste allora bisogna che la politica prima di tutto affronti questo problema per evitare che accada quello che stiamo vedendo nelle nostre città e che si veda anche in altre città poi di tutto il mondo